4 nuovi bus per il servizio di trasporto pubblico urbano sono arrivati nelle scorse ore nei depositi di SGM e da breve saranno impiegati in città andando a potenziare la flotta già esistente ma anche a sostituire quei mezzi che hanno già percorso chilometri in abbondanza e necessitano quindi di una sostanziale revisione. L'arrivo dei nuovi mezzi rientra nel piano di ammodernamento del parco bus dell'azienda di trasporto pubblico cittadino che nel giorno i scorsi ha visto insediarsi il nuovo CDA. Adesso i quattro bus arrivati nei depositi di SGM saranno dapprima verificati e poi approntati prima di essere messi in esercizio. Si tratta comunque di quattro bus di dimensioni più contenute in grado quindi di districarsi in maniera più agevole lungo le strade del capoluogo. La necessità di andare a potenziare il servizio di trasporto pubblico e soprattutto di andare a sostituire quei bus con numerosi anni di servizio sulle spalle era stata più volte segnalata. Il tutto rientra nel piano di adeguamento del parco mezzi, piano che potrebbe prevedere come sottolineato anche dal sindaco Adriana Polibortone il ripristino del servizio di trasporto pubblico con minibus elettrici all'interno del centro storico cittadino. I quattro nuovi bus urbani saranno presentati all'utenza nei prossimi giorni.